Ci troviamo in Centro Storico e più precisamente in Via della Battaglia, una via che collega via Castel-Fidardo con Piazzale a Primo Maggio. Siamo tornati qui dopo alcune richieste dei residenti perché le problematiche segnalate già precedentemente nei mesi scorsi sembrano ancora non essere state risolte. Via della Battaglia è una via completamente abbandonata, l'unica cosa positiva è che passa due volte alla settimana la spazzatrice, però con le spazzole non riesce a raccogliere nulla perché le spazzole non toccano il fondo stradale in quanto si è abbassato troppo, si è distaccato dai fabbricati. Io penso che da un anno a questa parte da quando ci siamo incontrati la situazione sia leggermente peggiorata, sta diventando molto pericoloso per i veicoli e le ruote, se aspettiamo che accada qualcosa di disastroso andiamo avanti così. Io mi rivolgo ai nostri amministratori che escono fuori dal loro ufficio o mandano i loro tecnici principalmente a vedere queste problematiche. Danni si sono registrati anche a veicoli e a mezzi che comunque transitano in via della Battaglia? Certo sì perché toccano solo il fondo, toccano le marmitte, toccano i paraurti, ultimamente ci ha lasciato mezza macchina, una macchina dell'ufficio postale. Proprio all'incrocio con via Merigo de Ventura che proprio lì è il punto peggiore. Siccome in fondo via della Battaglia con via Bertossini non esistono le telecamere, la via della Battaglia è percorsa in due sensi da gente che non ha permesso, avanti e indietro, avanti e indietro quotidianamente, sembra una via fuori zona traffico limitato, da moto, da macchine, proprio incuranti dei diviti. Le problematiche che abbiamo riscontrato in via della Battaglia poi sono presenti anche in piazzale Primo Maggio? Certo, in piazza Primo Maggio in modo particolare perché verso mezzogiorno c'è un traffico pauroso che il piazzale si blocca completamente. L'altro giorno c'era una croce rossa che per scaricare un malato ha dovuto fare due giri perché non riusciva a fermarsi. C'è proprio una mancanza di controllo da parte delle forze dell'ordine incredibile. Poi guardate voi stessi il fondo stradale, lascio voi giudicare.